Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Premetto subito, vedete che sono dietro la stampante Lenny Cubic e la Wash & Cure Che sono in funzione, quindi se sentite un po' di confusione perché dietro di me c'è una stampante che sta lavorando Quindi me ne scusa anticipatamente Colgo l'occasione, ovviamente ancora una volta Lenny Cubic per averci offerto, come potete vedere qui dietro alle mie spalle La Photon e qua giù la Wash & Cure Machine che vi abbiamo già fatto vedere nel video di qualche giorno fa Oggi diamo il via con questo primo video a una nuova serie che speravo veramente già da un anno di portare sul canale Ma non avevo la materia prima, non avevo la stampante 3D Speravo di portarla e finalmente siamo arrivati, iniziamo una nuova serie di video chiamata Pimp My Board Game In questa serie Pimp My Board Game prenderemo tutti i giochi da tavolo più belli O che ovviamente a noi sono piaciuti di più e scaricando progetti magari presi da Thingiverse, da 3D Cults Ovviamente progetti tutti quanti gratuiti e senza alcun tipo di copyright sopra Andremo a stampare e a rendere in 3D la maggior parte dei giochi da tavolo come detto più belli Che ci hanno emozionati di più Iniziamo questo video, come l'avete visto dalla copertina, con le navette di The Expanse Che oltre ad essere un gioco bello e una serie televisiva e di romanzi che adoro da morire Vi ricordate, andatela a cercare sul canale, quando ci fece la recensione dissi Il gioco è bellissimo però, ora non pretendo ci fosse una flota tipo Battlefield Gothic Però perlomeno delle navettine in plastica mettetecele perché vedere la rosinante, la donnager Che sono dei token piccolini, rappresenta un po' male È anche vero che è un gioco da 30€, quindi costo molto contenuto Però non riuscivo ad immedesimarmici, lo dico proprio sinceramente Quindi c'era bisogno della cosa del genere e siamo partiti da questo Non c'era tanta roba da stampare perché in tutto, divise per le 4 fazioni, c'erano 20 navi Quindi alla fin fine sono poche, sono 5 per fazione più la rosinante che è una cosa a parte Quindi c'è stato poco lavoro da fare Ve le faccio vedere ora a breve per come rendano sul tavolo E diamo il via appunto come detto a questa serie che spero vi piacerà Vi faccio un pochino vedere come è uscito il lavoro Allora questo ve lo ricordate, non vi sto a fare setup anche perché non è un tutorial Non metto carte, non metto niente Il tabellone di gioco alla fin fine come dimensione va anche abbastanza bene Perché come vi dissi nel video è abbastanza contenuto E poi quello che ci deve essere c'è tutto Quindi sono i pianeti interni, la fascia e i pianeti esterni C'era Marte, vi ricordate c'era Eros, c'era la Terra, c'era Ceres Da questa parte qui, Giove E poi anche la cintura di Saturno Quindi il tabellone è piccolino anche perché non è un gioco di battaglie spaziali È contenuto, chiede poco tavolo e quello va bene Però ragazzi come vi disse al tempo Queste qui non si potevano vedere C'è questo che mi deve andare a rappresentare la flotta dell'OPA Questo che mi deve rappresentare una nave delle Nazioni Unite Questa la Protogen, le navi stealth Questa praticamente rappresentava la Rosinante E questo che mi va a rappresentare, color arancione, la Repubblica Congressuale Marziana Ora il gioco è bellino lo stesso Vi ricordate che ho dato un voto alto Però onestamente mettici qualcosa di piccolino perché queste non si possono vedere E allora siamo venuti in conto con questa cosa qua Non è più bellino andare a sostituire le navi stealth della Protogen con dei modelli 3D fatti in resina Non è più bello andare a sostituire le flotte delle Nazioni Unite della Terra Con un modellino in resina dell'Agata King Che tra l'altro guardate bello rende anche bene messa in piedi Per farvi vedere anche le dimensioni Oppure andando a prendere la flotta dell'OPA La piccola Knight di salvataggio Oppure la Kant Da cui tutto è iniziato Per chi segue la serie Al posto della Rosinante Spostando anche questo qui Ci andiamo a mettere la piccola Rosinante Guardate bellina Tra l'altro Vera e propria Quindi abbiamo stampato anche la Rosi E per ultimo La Repubblica Congressuale Marziana I miei preferiti Con un incrociatore Modello Scirocco E poi con la nave Ammiraglia della flotta di Giove La Donnager Cioè guardate belle Ora Sinceramente Andando a sostituire questo 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 E questo qua giù al centro Ma quanto ne guadagna il gioco E infatti Ci siamo sbizzarriti Come vedete qua giù A stampare tutte quante Le navi del gioco Che sono in tutto 20 E adesso Finalmente Quando dovrete andare a giocare A The Expanse E fare le vostre azioni Invece di muovere questi pirulini Piccolini Questi token Non è più bellino A questo punto Quando dovete spostare una flotta In orbita Di un pianeta Cioè ci avete fisicamente Le navi Rispetto a quei token Laggiù Ancora una volta Secondo me È un bel lavoro Che va A valorizzare il gioco Non è un gioco di battaglie Ma fa Molta più figura Rispetto a vedere Queste cose qui Sul tavolo Ragazzi Se vi interessano Contattateci Ma questo ve lo spiega a breve In conclusione Questo è il lavoro Che abbiamo tirato fuori Ma dietro c'è stato Intanto vi faccio vedere Un po' anche un altro video C'è stato un montaggio sopra Un lavoro disumano Perché Noi si pensava Ingenuamente No Quando abbiamo preso La stampante 3D Autosupport Lui ti mette tutti i supporti Te stampi Finito Mia moglie Per fare queste navi Non solo ci sono venute 16 ore di stampa Cioè questa poveraccia Qui è stata 16 ore A lavorare Accesa fino anche a mezzanotte Ma una volta finite Volevamo colorarle Quindi che fai Poi la parte più difficile Non ve l'ho detta Non ci dai il primer Non le colori Perché escano bianche La resina è bianca Quindi A parte le navi Quelle dell'OPA Tutto il resto Andano a colorare E le abbiamo colorate Ma la progettazione La stampante 3D Stampando dal piatto Verso il basso Quindi soffre totalmente Della gravità Perché stampa la figura A testa all'ingiù Se i supporti Non sono messi bene La figura col peso Si stacca E va verso il basso Quindi si è vero Che le navi Come avete visto Sono piccoline Ma se non ci mette i supporti Rischiano comunque Di staccarsi Perché comunque Anche un oggetto piccolo Al suo peso Non regge Se la base Non è abbastanza grande E cadere Quindi c'è stato un lavoro In tutto Progettazione E tutto Di almeno 24 ore Quindi è stato un bel lavorone grosso Ragazzi Io vi invito Link in sovrimpressione Che è la nostra pagina Maledetti dadi Di Instagram E anche ve lo metto Come primo link In descrizione Se vi serve qualcosa Per pimpare Modificare i vostri giochi Da tavolo Ma anche per Piccole action figure E cose del genere O anche altro Tipo di attrezzature In 3D Da mettere anche magari Per dei giochi di ruolo Contattateci privatamente Sulla nostra pagina Instagram Di maledetti dadi Che vedete In sovrimpressione Chiarisco subito ragazzi Niente roba coperta Da copyright Quindi sono cose Gratuite Che trovate magari Su Tiki Verso su altri siti Non siamo modellatori 3D E mia moglie Quindi se trovate Il progetto 3D Ci contattate E tutto Vi diciamo il prezzo Perché ovviamente Non è Un servizio Che facciamo gratuitamente Comunque vi comunichiamo Il prezzo E vediamo insomma Il tempo che ci vuole Di stampa E tutto quanto Se le volete pitturate E non pitturate Insomma Se volete pimpare Il vostro board game Contattateci Fateci sapere Cosa ne pensate E secondo me È venuto un bel lavoro Tanto per iniziare E questo è il primo video Di molti altri Che usciranno Ciao ragazzi Alla prossima